Rutiliano non è solo uva e fischietti, ma anche il grano buono, una varietà molto speciale di questo cereale che si chiama proprio così. Un prodotto di nicchia, un grano scelto, destinato a essere cucinato e servito a tavola, tipico di quest'area del sud-est parese, in cui ne sono state trovate tracce anche in reperti archeologici. Spighe come queste crescevano già 8.000 anni fa. Per valorizzarlo, proteggerlo e stimolarne la coltivazione, è stato sottoscritto un accordo tra comune di Rutiliano, Università e Politecnico di Bari, Consiglio per la ricerca in agricoltura e CNR, Associazione Porta Nuova, che organizza la festa del grano, e il GAL Sud-Est barese, che si è fatto promotore dell'iniziativa di valorizzare questo grano così particolare, difficile da coltivare, ma molto buono da mangiare. Pochi chicchi, ma quei pochi chicchi sono grandi e quindi sono più facili da pulire e quindi da cucinare. Al momento il grano buono si coltiva e si vende solo a Rutiliano, ma attraverso la ricerca si punta a incentivarne la produzione per offrire grandi occasioni di commercializzazione e trasformarlo in una risorsa economica. Potrebbe diventare un'attrattiva per gli amanti dell'enogastronomia e dei prodotti di nicchia. Anche il grano buono di Rutiliano potrebbe diventare un brand del territorio. La mission è questa, speriamo che con i risultati della ricerca degli enti firmatari di questo protocollo possiamo isolare questo grano buono e portarlo in tutto il mondo.